Intensa giornata di incontri per il gruppo della Regione Lombardia del Partito Democratico nella zona della Martesana, nell'ambito dell'iniziativa sempre connessi con i territori lombardi. Situazioni diverse che però hanno in sé un campanello d'allarme per quanto riguarda l'occupazione da un lato e la delocalizzazione dall'altro. È stata un'occasione veramente per toccare il polso della situazione della crisi e abbiamo cercato di manifestare al meglio la nostra vicinanza agli operai, ovviamente abbiamo trovato molto sconforto, la voglia di ritornare al più presto al lavoro, il credere comunque in una prospettiva occupazionale, l'aspettarsi risposte vere da parte delle istituzioni, istituzioni troppe volte latitanti. Siamo agli ultimi giorni che scade la procedura di mobilità, stiamo aspettando comunque degli incontri istituzionali, la regione chiediamo, hanno un piano di sviluppo, parlano di milioni in cui ha partecipato anche Nokia, non si vede mai, non parte mai niente, qui le fabbriche stanno chiudendo, arrivano le scadenze. Il lavoro è importante, fuori di qua io ho 47 anni, non ho alcuno sbocco, ho bambini due anni e mezzo, dove vado? Ci sono anche tanti mariti e moglie che lavorano qui con noi e hanno anche dei bambini piccoli a mantenere, questa gente come fa? Per quanto riguarda Alenia invece di Vimodrone il tema è diverso, un'azienda in salute che ha commesse per vari anni su una produzione assolutamente specialistica e specializzata rischia di essere tolta a questo territorio unicamente per una serie di ragionamenti che arrivano da economie di scala per finire con investimenti da localizzare in altre zone d'Italia oppure d'Europa. Che cosa chiedete a Regione Lombardia per risolvere o per aiutarvi in questa situazione? Chiediamo innanzitutto di portare a livello nazionale questa condizione per i riflessi occupazionali che avrà e per la perdita di legame tra università e territorio. Prima di questa attenzione alla dimensione occupazionale come consiglieri siamo stati, grazie e anche all'impegno dei circoli territoriali nelle stazioni della metropolitana e delle ferrovie della Martesana per volantinare e per tentare di rilanciare un impegno volto alla manutenzione delle stazioni, all'eliminazione delle barriere architettoniche ma soprattutto alla creazione di un sistema più efficiente con l'introduzione del biglietto unico e la possibilità di avere una vera e propria concorrenza del trasporto su ferro al trasporto su gomma che letteralmente intasa le strade della Martesana ogni giorno in entrata e in uscita da Milano. Quest'area ha sicuramente avuto uno sviluppo grazie a questa stazione e grazie ai trasporti che adesso hanno un limite per quello che riguarda innanzitutto le capacità di trasporto inteso come capacità di realtà passeggeri ma soprattutto credo sostanzialmente hanno un grosso problema. Noi da Cassina De Pecchi muovendosi verso la città abbiamo dei costi insostenibili. Io stesso se dovessi fare una scelta nell'andare in città utilizzo l'auto molto spesso perché mi costa meno e di conseguenza è opportuno che si riveda anche questa realtà. Altro grosso problema per noi è sicuramente il fatto che questa stazione ha delle barriere architettoniche incredibili. Non dico il disabile con la carrozzina ma la stessa signora con il passeggino chi viaggia con delle valigie ha delle difficoltà estreme. Il pomeriggio poi è vissuto in particolare di un incontro con il dottor Cordone che è il responsabile dell'azienda ospedaliera Milano 2, l'azienda ospedaliera di Melegnano, un territorio molto vasto che secondo il dottor Cordone deve ragionare nell'ottica dell'ospedale a rete. Un ospedale a rete che però fatica a decollare e abbiamo tentato di fare il punto della situazione sottolineando come c'è bisogno di dare una maggiore stabilità alla vocazione dei singoli presidi ospedalieri anche in mancanza di fondi perché i tagli purtroppo colpiscono anche la martesana. Bell'incontro poi con gli amministratori locali del territorio presso l'aula consigliare di Cernusco sul Naviglio per mettere a tema la città metropolitana con il protagonismo della martesana che lancia un appello a Milano affinché non faccia da sola sui temi più importanti dai trasporti al consumo di suolo alla possibilità di immaginare una gestione comune dei servizi. Questo è il vero disegno della città metropolitana pensata su una mobilità esclusivamente di tipo automobilistico individuale cioè su gomma. Io dico che bisogna avere presente questo tipo di mobilità ma non è l'unica mobilità all'interno di un'area metropolitana come Milano. Questa è la sfida del Partito Democratico, quella di puntare più sul trasporto pubblico. E a proposito di sostenibilità dalla visita in martesana è arrivato anche un ennesimo appello perché non si procede al raddoppio dell'inceneritore di Trezzo. Noi assistiamo ad un paradosso. Recentemente anche lo stesso presidente della provincia Podestà ha dimostrato e ha dichiarato di non volere il raddoppio dell'inceneritore. Ma il tema è come fa la politica con una scelta che sta attenta ai territori riuscire poi a bloccare l'azione amministrativa. Ecco questo noi è un dilemma al quale ancora non abbiamo avuto risposte. Attendiamo nel giro di breve una risposta risolutiva. Come PD continuiamo a ribadire che la zona di Trezzo, la zona della martesana ha già dato e ha un ciclo di rifiuti ormai completo e assolutamente sostenibile, anzi migliore rispetto ad altre zone della Lombardia. Non si vede perché dunque deve essere ulteriormente penalizzata con la concessione di un raddoppio che non ha senso anche in virtù della diminuzione di rifiuti che da più parte ormai è stata certificata. Insomma una giornata intensa che pone il PD in intensa relazione con il territorio e che porta con sé anche una promessa. La promessa di tornare ad incontrare i cittadini e di dare ascolto a tutte le istanze che da un territorio importante come questo arrivano a Regione Lombardia.